Sono veneziana, abito in Trentino da molti anni e ogni tanto torno a Venezia. Venezia non è più la città che conoscevo. Affonda sotto il peso dell'incuria, di un turismo selvaggio e approssimativo che non rispetta e non si fa rispettare. A fronte degli impegni presi e non mantenuti dall'amministrazione comunale a seguito della manifestazione Venezia e Lusseoce Gambe voglio ribadire che Venezia deve tornare a essere una città per i residenti e non solo per i turisti.